La Barbera d'Asti per noi è il prodotto che maggiormente ci rappresenta. Noi produciamo circa 50.000 quintali di uva Barbera all'anno. Siamo situati nella zona classica della Barbera d'Asti e oltre alla Barbera d'Asti siamo nel territorio del Nizza, quindi l'ultima denominazione di origine controllata e garantita che è nata sul territorio, sempre a base di vitigno Barbera. Per noi l'importante è sempre la Barbera d'Asti. Nell'ambito delle Barbera d'Asti, due Barbera d'Asti in particolari, il Ventiforti e il 50 anni. Il Ventiforti è il vino più giovane, più moderno, più adeguato a un consumo più quotidiano, diciamo, mentre il 50 anni è un vino che rispecchia tutta quella che è la classicità della Barbera d'Asti, la tradizionalità della Barbera d'Asti. E poi il Barbera d'Asti superiore alle Vignole e il Nizza in ultimo, ma non per ultimo, che comunque è il fior all'occhiello di questo territorio, fatto di 18 comuni, sempre a base di vitigno Barbera. Grazie.